Un intervento previsto da tempo, atteso e necessario. Stiamo parlando della messa in sicurezza del parco di casa San Benedetto sulle Torricelle che lo scorso 23 agosto, dopo la terribile tempesta che si è abbattuta su Verona, aveva messo in serie a difficoltà la struttura e soprattutto il parco. La furia della tempesta aveva infatti sradicato alberi che con il loro peso avevano messo in difficoltà anche alcune strutture. I volontari della protezione civile dell'ANA Verona, coordinati da Filippo Carlucci, erano stati tra i primi a entrare in azione nei momenti immediatamente successivi al Fortunale. Il sabato scorso sono tornati per ripristinare il parco e la piattaforma sportiva al centro del cortile di casa San Benedetto. Un intervento che ha visto oltre al personale specializzato della protezione civile anche più di 140 volontari dell'ANA di Verona che nel rispetto delle norme anti-covid hanno potuto portare il loro aiuto per restituire ai ragazzi della comunità e a tutti i cittadini la piena fruibilità dello splendido parco di casa San Benedetto.